Il Dottore saprà se lei ci parla così, no? No, no. Signora Masi, essendo lei l'unica compatibile con il midollo dei suoi genitori? Sì. Si può ritenere possibile un unico intervento. Quindi possiamo salvare la vita a un nostro madre o a un nostro padre. Tumbo. Se lasciassimo allora in mano la scelta, cosa credi che farebbero? Salverebbero l'altro. Salvare una vita sempre, se si può. Vorremmo fare un diretto all'inferno, Elena? Perché tu dove stai ora? Noiosa la vecchiaia. Forse è più noiosa dopo. Io ho paura, Elena. C'è che è stato tu? A far cosa? A dire tutti ti amo che si dicono in una vita intera.